Perfetto, buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente la consigliera Baglio e la consigliera Piccolo per l'interrogazione che è stata proposta oggi e ringrazio anche la presenza del commissario e dello staff di Farmacup. Mi dispiace molto per quello che è avvenuto, soprattutto sulla stampa perché credo che il messaggio che sia stato comunicato non risponde assolutamente al vero. Le cose che sono state dette e raccontate non rappresentano assolutamente quella che è l'effettiva situazione di Farmacup, né tantomeno le dichiarazioni fatte dalla dottoressa Leing. A mio riguardo su programmi nazionali, televisivi, assolutamente io li disconosco tutti dal primo all'ultimo, ci sono stati dei contatti molto cordiali con il suo staff perché lei non era sola in quelle riunioni e gli è stato semplicemente chiesto di darci conto della sua attività. Ricordo che il bilancio presentato dalla dottoressa Leing non è un bilancio certificato, non è stato assolutamente vagliato dai revisori, infatti attendiamo con finanzia anche da questi colleghi, da questi tecnici ed esperti, proprio di fare una valutazione sui numeri che la dottoressa Leing porta all'interno del bilancio perché abbiamo qualche dubbio in merito alla sostenibilità di tali ipotesi. Comunque passiamo alla risposta all'interrogazione. Allora viene chiesto innanzitutto se si intende a proseguire nell'azione di risanamento di Farmacap oppure vendere l'azienda precisando termini e modalità dell'operazione. Allora sul punto è necessario valorizzare il contenuto dell'ordinanza di nomina del commissario straordinario dell'avvocato Stefanori. Silenzio in aula per favore. Ove è chiara la sua funzione che è ovviamente diversa da quella del precedente commissario, quello che era stato nominato precedentemente, che invece aveva come obiettivo proprio la vendita di Farmacap e qui la risposta anche sui 600.000 euro. Nel bilancio, quello appunto attivato da Tronca, non era assolutamente proposta alcuno stanziamento. Quindi l'amministrazione a quel tempo, nominando questo commissario, il commissario precedente, aveva già previsto che Farmacap doveva chiudere. Questo è un po' appena subentrata, ha dovuto fare un primo intervento. Questo è quello che è avvenuto sui 600.000 euro. Proseguo. Che è quella di proseguire l'opera, quindi l'opera è quella di proseguire il risanamento dell'azienda senza finalizzare l'opera del commissario stesso ad operazioni di trasformazione in società di capitale e successive vendita dell'azienda come precedentemente statuito. Quindi questo era il percorso, sostanzialmente si disanava l'azienda, si cambiava Farmacap d'azienda speciale a SPA o comunque società di capitali e poi si faceva la vendita. Inoltre occorre sottolineare due fatti importanti accaduti dopo la formulazione della presente interrogazione. Come giustamente lei ricordava, l'interrogazione è arrivata precedentemente a questo evento. Allora, innanzitutto quindi c'è come primo evento la risoluzione del rapporto di lavoro con la dottoressa Lying, il direttore generale di Farmacap a far data dal 31 marzo ultimo scorso. Il secondo elemento che va integrato in questa richiesta è la presentazione del bilancio 2016 che si sta ancora approvando ed evidenza un utile di circa 25.000 euro rispetto ai 900.000 paventati nell'interrogazione. e dai 585.000 euro indicati nel progetto di bilancio redatto dall'ex DG Lying. Quindi, cosa vuol dire? Il commissario straordinario ha acquisito il bilancio proposto dal DG Lying, l'ha ovviamente rivisto per quelle ipotesi e quelle considerazioni che facevo prima in merito all'attività dei revisori ed è uscito fuori un utile di 25.000 euro. Quindi si sono completamente cambiati i numeri. Ciò significa che pur se con miglioramenti rispetto al passato mostra ancora una fragilità patrimoniale dell'azienda. Ciò perché nell'ipotesi in cui si dovesse far fronte al pagamento dei debiti, al netto dei crediti e delle disponibilità liquide, vi sarebbe un saldo negativo da coprire di oltre 6 milioni con la vendita di asset patrimoniali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che un conto è guardare l'utile, cioè il fatto gestionale e quello che durante il corso dell'anno farmaca produce. Un altro conto è andare a ragionare in termini patrimoniali. Se io dovessi a un certo punto decidere di vendere l'azienda, alienarla, mi ritroverei a dover coprire un debito notevole e quindi a dover trovare altre risorse per potervi far fronte. Ma su questo andiamo oltre. Inoltre esso presenta un risultato di esercizio evidentemente inveritiero per l'assenza di adeguati accantonamenti, sia per rischi sia per gli oneri personale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a suo tempo la farmaca e quindi le precedenti amministrazioni avevano sempre accantonato a fondo rischi e oneri determinate somme. Per arrivare a un bilancio inutile, come lei giustamente stava rilevando, si è pensato, e a questo punto immagino ci sono state delle valutazioni che poi verranno anche attenzionate dai revisori, in merito all'azzeramento di tali accantonamenti, che vengono quindi rilasciati al conto economico da fondi preesistenti che si sono generando l'utile contabile. L'azione di risanamento si sta quindi realizzando solo ora, innanzitutto con accordi con tutte le organizzazioni sindacali. Ricordiamo che il valore aggiunto all'interno di una farmacia non è soltanto la disponibilità dei prodotti, che anche su questo tema ne parliamo, ma è anche avere del personale motivato, personale competente e che soprattutto sia occupato in maniera importante all'interno dell'azienda. L'intervento è sulla costruzione di accordi con tutte le organizzazioni sindacali al fine di disciplinare le politiche per l'utilizzazione del personale e i relativi oneri economici. Parliamo quindi di tutti gli arretrati non pagati e di tutti i buoni pasto. Quindi questi aspetti erano stati completamente trascurati dalla gestione della DG che adesso è stata allontanata. Quanto alle azioni penali citate all'interno dell'interrogazione si precisa che esse interessano alcuni dipendenti, quindi non parliamo di farmaca, parliamo di alcuni soggetti e sono relativi a sottrazioni di farmaci ad uso personale che hanno certamente rappresentato un danno per l'azienda ma non sono indice di comportamenti illeciti diffusi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che assolutamente c'è il massimo rigore nel punire determinate le mele marce, come si dice, però dall'altra parte bisogna farlo seguendo le regole. Purtroppo se si attivano delle procedure senza seguire le regole dopo l'amministrazione, in questo caso Farmacap, si ritrova a doversi avere delle azioni di rivalza nei suoi confronti. Riguardo alle nuove linee di indirizzo di Farmacap, esse sono state approvate dal commissario straordinario, con propria deliberazione, questo è un atto proprio del commissario, numero 4 del 20 febbraio 2017 e attendono di essere ratificate proprio dall'assemblea capitolina, quindi arriveranno in assemblea capitolina e verranno chiaramente ratificate con la modifica della deliberazione che optava per la trasformazione in società di capitali e la successiva cessione dell'azienda. Quindi si accompagnano due provvedimenti, uno è quello riguardante le linee di indirizzo che vanno chiaramente a guardare al risanamento dell'azienda e dall'altra si cessa quella che era l'ipotesi che si era portata avanti con le precedenti amministrazioni. Gli obiettivi delle linee guida sono quelli del forte rafforzamento dell'attività di assistenza sociale e dello sviluppo delle attività di farmacia e del nido, nell'ottica del mantenimento dell'azienda nell'area pubblica. Con riguardo alle richieste relative alla circostanza che il commissario straordinario Stefanori sia stato in un recente passato consulente di Federfarma, va osservato che ciò in modo assolutamente trasparente risulta dallo stesso CV, a suo tempo presentato e valutato. E testimonia l'esistenza di quei requisiti di professionalità ed esperienza in tema di farmacie che ne hanno determinato la scelta. Ci viene sempre contestato che non ci sono competenze, il movimento lo fa, mette persone che hanno una grande competenza proprio sul settore, anche perché Farmacap è un'azienda che ha, come si ricordava, ha avuto diverse criticità e adesso ha bisogno di un vero cambio di passo. Solo per opportuna informazione segnalo che Federfarma è un'associazione sindacale, cioè quella dei titolari delle farmacie e dunque non esercita alcuna attività che possa ritenersi in conflitto con quella di Farmacap. Immediatamente dopo la nomina il commissario straordinario è stato cooptato negli organi direttivi di Assofarm, che è la corrispondente associazione delle farmacie pubbliche. Per quanto attiene infine ai profili di rilevanza sociale delle attività della Farmacap, va detto che esse non sono in contrasto con le scelte di autonomia economica, che peraltro devono fondarsi su attività svolte a favore della popolazione di Roma Capitale, non invece di terzi, ragion per cui è stata interrotta l'acquisizione di farmaci contingentati, effettuata a beneficio di grossisti che provvedevano alla loro esportazione. In conclusione dunque, l'azienda continuerà ad operare facendo leva sulle proprie forze, peraltro limitate dalla fortissima esposizione bancaria, tema che non è uscito dalla Lying, che nonostante l'asserito risanamento viaggia intorno ai 7 milioni di euro. Fatto certo, e sul quale stiamo fortemente lavorando, è che occorrono significativi risparmi nella gestione aziendale, da conseguire attraverso la realizzazione di scelte aziendali precedentemente non operate, come ad esempio la valorizzazione del patrimonio immobiliare oggi abbandonato, nella dismissione di cespiti inutilizzati, eppure fonte di costi nella razionalizzazione delle spese per consulenze. Tanto per citarne una, a titolo di esempio, è quella del raddoppiamento del compenso al consulente contabile e fiscale dell'azienda della sua medesima area territoriale che la ex DG Lying aveva inopinatamente portato da 50.000 a 100.000 euro annui. Il contratto è stato risolto dal nuovo commissario straordinario per eliminare quella che la stessa ex DG aveva definito come la mangiatoia, che si sta invece sradicando sotto ogni profilo. La ex DG aveva infine disposto l'interruzione del servizio Recup a partire dal 1 aprile, non curandosi delle esigenze dei cittadini e del relativo diritto di salute costituzionalmente garantito. Tale ultima circostanza ha determinato, quale ennesimo elemento, la risoluzione del rapporto di lavoro con la direttrice stessa, in quanto la penalizzazione dei cittadini era e rimane inaccettabile. Il commissario straordinario si muove quindi sulla linea della Ligazione, realità e del rigore. A disposizione di Codesto Consiglio e delle decisioni che in merito si vorranno adottare. Grazie.